Sì perché ovviamente il RAV ha portato all'attenzione non solo la tematica legata ai fatti di cronaca ma anche ovviamente la situazione dell'ex stabilimento che è versa da uno stato di condizione davvero molto pesante e c'è un rischio di conseguenze dal punto di vista ambientale molto forte, anzi forse le conseguenze ci sono già in atto in questo momento. Che cosa si può fare? Voi dai banchi della minoranza risolleverete immagino la questione ma dal punto di vista proprio amministrativo un sindaco ad esempio cosa potrebbe fare? Beh intanto serve una strategia per Poti che è la montagna di Aretini ed è un luogo molto importante da valorizzare dal punto di vista naturalistico anche per il turismo legato alla bicicletta, alla corsa ci sono tante occasioni per cui si può valorizzare Poti. Dall'altro però considerare che non solo l'area dell'ex stabilimento Fontemura ma anche l'area dell'ex albergo sono ormai delle pattumiere a cielo aperto quindi intanto interessarsene, coinvolgere le istituzioni di livello più elevato quindi la regione e il governo e capire se ci sono le risorse per una monifica dell'area che oggi la curatela fallimentare che ha in gestione l'area non ha i soldi per poter gestire quindi sicuramente portare l'attenzione su una possibile bomba ecologica che oggi rischia di essere un elemento che danneggia l'immagine di questo luogo bellissimo e ovviamente l'ambiente. Ma il sindaco potrebbe fare un'ordinanza essendoci adesso il curatore fallimentare di mezzo? Io credo che il sindaco si debba occupare di quest'area. La cosa più importante è questa, cercare di comprendere quali sono le possibili soluzioni. È difficile, certo che è difficile, ma è anche vero che non possiamo ignorare che in uno dei luoghi più belli, più rappresentativi e con la maggiori potenzialità dal punto di vista turistico e della valorizzazione anche per le famiglie retine dal punto di vista ambientale possa essere lasciato così ridotto e diventare oggetto pubblico di comunicazione solo quando ci fanno un rave party, qualcosa di più. Tornerà in consiglio questo argomento? Io non penso che tutte le cose devono per forza andare in consiglio. Diciamo che ci sono anche consiglieri di maggioranza che sono occupati del tema. Consiglieri di minoranza, il sindaco appena magari tornerà dal suo viaggio negli Stati Uniti e magari potrebbe metterlo come uno dei primi punti sul tavolo. La pandemia alle amministrazioni ha dato anche molto tempo. Se non utilizziamo questo tempo nel quale si sta più a distanza, si sta meno tra le persone, non lo utilizziamo per progettare, programmare, per risolvere le problematiche, allora stiamo sprecando anche l'unica cosa che questo periodo bruttissimo ci ha dato, quindi la disponibilità a pensare la città in modo diverso, anche tutte le sue problematiche più importanti.